Ciao amici della mia motofficina rurale, sono qui in compagnia di una splendida Yamaha XT600E immatricolata nel 98, la quale stenta ad andare in moto. Il perché? Ve lo faccio vedere subito. Ecco qua, qui c'è il carburatore, il carburatore come vedete è molto sporco perché perdeva benzina. Perdendo benzina gocciolava la benzina sul motorino di avviamento, il quale, eccolo qua smontato, il quale si è rovinato. Nel senso che è vecchio, quindi gli o-ring erano consumati, la benzina è entrata dentro ed è andata a polverizzare praticamente i contatti striscianti. Questi qua, i contatti striscianti di questi, questi qui. Ora, poiché questo motorino si potrebbe anche revisionare, il suo gruppo revisione, ma il kit di revisione costa 35 euro. Inoltre c'è l'indotto anche un pochettino rovinato, quindi preferiamo spendere 70 euro e comprarlo nuovo e comprare il kit di revisione dei carburatori per eliminare la perdita. Quindi questo adesso andrà tutto smontato, quando arriva il kit, messi i pezzi nuovi, rimontato, e rimontato tutto qua dentro in questo casino della madonna. Che ho smontato e non so se ce la rifarò a rimontarlo. Va bene, grazie, vi farò sapere. Grazie a tutti.